Sondaggi politici. Per Carlo Buttaroni, tra i maggiori sondaggisti italiani, presidente di Tecne e direttore di TMAG, Rosatellu Monò, vista la situazione italiana non c'è legge elettorale che faccia vincere qualcuno a discapito di un altro. In un paese come il nostro dove c'è una trepolarizzazione forte, non esiste un sistema elettorale che garantisca una maggioranza di governo se non c'è il secondo turno ci ha detto nel corso di una intervista. Il secondo turno non c'è infatti, ma c'è una nuova spinta a formare delle coalizioni. Se si vuole essere competitivi nei collegi uninominali bisogna fare delle coalizioni, con un sistema elettorale maggioritario le devi fare per forza. Vediamo allora quali potrebbero essere le coalizioni, e che punti percentuali potrebbero avere.